Code Motion 2024, per la prima volta quest'anno sono stato a Code Motion, era un evento a cui volevo partecipare già da qualche volta, ma per un motivo o per un altro non ci sono mai stato. Quest'anno mi sono deciso e finalmente sono andato, ho fatto solo un giorno su due, ho fatto la giornata appunto di mercoledì 23 ottobre, ci sono andato con il mio socio Luigi e insieme a un amico Francesco. Ci siamo trovati direttamente là, ovviamente i treni ci hanno fatto impazzire, ma come al solito va bene, cose che capitano durante i viaggi. Detto questo, che cosa sono andato a vedere? Beh, prima di tutto ho incontrato amici vecchi e nuovi, ex colleghi e così via, e le sessioni a cui ho partecipato sono state, questa è l'agenda del 23, ho fatto DevOps Practices for Intelligent Apps, condotta da Federico Luciano e Alessandro Manesca di Microsoft, che ho rivisto con piacere dopo qualche anno e in pratica è stata una sessione che ha parlato di quali possono essere gli strumenti per monitorare l'andamento delle proprie soluzioni basate su AI ed è un po' così in ottica DevOps, nel senso che più che altro era declinata sul monitoraggio. Quando rilasciamo soluzioni AI non abbiamo una classica telemetria, sono un po' delle scatole nere che il loro funzionamento, noi magari le utilizziamo tramite delle API, configuriamo, diamo dei prompt eccetera eccetera, ma per esempio si spiega facilmente in questo modo, esempio che è stato usato durante la sessione, se un utente utilizza il nostro chatbot o quello che è e non ottiene una risposta voluta e non è che in realtà lui ha una chiamata, un HTTP che gli sta dando un errore dietro le quinte, quindi non è che gli possiamo mostrare un classico errore, c'è stato un problema, riprova, semplicemente il modello gli sta dando una risposta magari non coerente, sbagliata, allucinata e così via. E quindi ci vogliono una telemetria leggermente diversa, magari in grado di capire il sentiment che si basa sul sentiment dell'utente quando interagisce con il chatbot. Quindi se in una conversazione l'utente comincia a dare delle risposte che cominciano ad essere piccate o che dimostrano frustrazione nell'utilizzo del boss stesso, noi potremo avere della telemetria che tiene sotto controllo il sentiment, quindi come sta andando l'interazione, com'è l'emotività dell'utente quando interagisce con il nostro bot, e quindi avere telemetria su questo. Sono stati mostrati un paio di strumenti all'interno di Azure, in particolare dentro Application Insight, che ci servono per fare questa cosa. Quindi con sessione da questo punto di vista interessante, non avevo mai pensato in effetti alla telemetria sulle interazioni dei modelli. Probabilmente ci farò qualche esperimento per conto mio. Come vedete qui l'agenda era ricchissima, quindi era impossibile partecipare a tutto, mi guarderò delle registrazioni di quello che ritengo più interessanti. Avendo a che fare, anche se un po' così più di striscio, io ho una persona, non tantissimo, ma diciamo con le applicazioni React, mi sarebbe piaciuto andare a vedere questa sessione, app veramente native con React. però va bene, guarderò la registrazione. Dopodiché sono andato a vedere la sessione, ho fatto una scommessa, questo dal titolo mi aveva incuriosito, Codecraftmanship Treating Software Development as an Art Form, di AB. Il suo nome ha Biodium qualcosa, non lo dico per rispetto perché nel senso non lo so pronunciare bene. Lei ha la lista della sessione ha detto che si fa chiamare AB. È una ragazza africana che lavora e vive a Londra e secondo me il biglietto del Code Motion è valso la partecipazione a questa sessione. Una ragazza, per quanto mi riguarda, bravissima sul palcoscenico, per così dire. è una sessione divertente, coinvolgente, sostanzialmente da manuale. Alla fine il contenuto in sé è completamente condivisibile, anzi sposo in pieno tutti i concetti che ha spiegato. Sostanzialmente avesso giù a modo suo un po' di clean code, di concetti di clean code e di collaborazione tramite documentazione e così via. molto condivisibile, appoggio in pieno, ma soprattutto appunto è stata la mia cosa preferita del Code Motion. Vi consiglio assolutamente di recuperare questa sessione quando usciranno le registrazioni. Sono partito direttamente qui dall'agenda vera e propria, diciamo, perché stanno un po' così a caso. In realtà sono entrato poco dopo all'inizio di Pain Tetris with Cognitive Load di Man and Pan, PySpace, non mi ricordo come si pronuncia il cognome. Sessione che ho trovato per certi aspetti un po' forzata, nel senso che il suo abbinare il Tetris al Cognitive Load, in alcuni esempi veniva bene, in altri no, da un keynote quasi, diciamo, sì, sostanzialmente un keynote, perché questa era l'apertura dell'evento, mi sarei aspettato un pochino di più, un qualcosa di un po' più ingaggiante, se si può dire. Dopodiché, va bene, siamo andati a pranzo, ci siamo gustati un paninazzo, quello che è, e poi siamo andati a vedere un po' la zona community, dove c'erano, abbiamo incontrato lì altri ex colleghi, Daniele e così via. Poi siamo andati alla zona gaming, c'era una zona di, come si dice, retro gaming, c'erano delle vecchissime console di giochi degli anni 80, è stato molto carino da vedere, c'era lo stand di Apogeo, dove si potevano acquistare libri ovviamente tecnici, e quindi passeggiava di qua e di là, il tempo è volato, e poi siamo andati, io sono andato a vedere l'agenda, sono andato a vedere qui, il Tolick Platform Engineering, The Next Evolution of the Ops, di Alessandro Poli, che è Head of Cloud di Team System. Team System ha dei numeri estremamente grandi, per un contesto italiano, ci sono 5.000 dipendenti, credo, più il team di Platform Engineering, se non ricordo male, sono una novantina di persone, e un totale di 1.000 developer. Niente, i miei complimenti al team di Team System, guidato da Alessandro Poli in questa iniziativa, dove sostanzialmente hanno fatto ordine nel caos, l'azienda Team System è nata negli anni 70, ha cambiato paradigma nelle sue applicazioni, nei suoi servizi all'inizio degli anni 2010, dove hanno adottato una mentalità cloud first, e tra acquisizioni, crescite e così via, si sono ritrovati in un mondo eterogeneo di stati tecnologici, piattaforme, tool, eccetera, eccetera. E quindi gestire tutto il loro mondo del cloud, addirittura credo anche in due cloud provider, Azure e AWS, era un po' un massacro. E quindi hanno fatto ordine, hanno adottato, secondo me, almeno da quello che ha raccontato Alessandro, con cui spero di organizzare un'intervista live nel mio canale YouTube, che voglio fargli altre domande, o capire bene, riproporre un po' la sessione, hanno fatto ordine, hanno fatto quello che, secondo me, è un approccio, la platform engineering, oserei dire, da manuale, almeno da quello che ha raccontato. E quindi è stata una sessione molto interessante, soprattutto dei numeri che, in realtà italiane, forse muovono le banche, o così via, quindi diciamo, molto, 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 molto orari. Dopo, purtroppo, io sono dovuto rientrare abbastanza presto, quindi sono andato a vedermi solo un pezzo della sessione T, vediamo se qui, il vecchio Fabio Biondi, sono entrato a caso, così, nell'auditorium, tanto sono sicuro di cadere in piedi in qualunque sessione io entrasse, ed è stata una buona conferma per alcuni lavori che stiamo facendo in azienda, perché stiamo adottando, appunto, Next così, e mi è fatto comodo, almeno, avere una sorta di, appunto, conferma che ci stiamo muovendo nella direzione giusta, che siamo sul pezzo, soprattutto il mio collega Luigi, che è lo specialista in questo ambito. Quindi a volte andare anche alle quelle conferenze, così, non è detto che, magari si trovi sempre l'idea geniale, o un concetto che proprio non si era mai visto prima, ma può essere anche utile portare a casa come valore una conferma che il modo in cui si sta lavorando o le tecnologie su cui si sta mettendo le mani, i propri trend siano allineati con i trend del momento, non solo magari per questioni di moda, ma perché ci siano effettivamente dei tecnicismi, delle tecnologie, ecco, interessanti che sbloccano degli scenari di business. Per il resto, ecco, poi io sono dovuto andare via, sono dovuto prendere il treno, eccetera, perché di nuovo anche nella strada del ritorno, tra ritardo, e del genere, sono arrivato a casa parecchio tardi. Va bene, questo è per quanto riguarda il mio giro al Code Motion, che quindi alla fine direi un voto su 5 stelle, ne andavo a 4, 4 e mezzo, la location era bellissima, soprattutto l'auditorium sembrava di essere in uno di quegli eventi corporate giganteschi delle grandi aziende americane, organizzato bene, nonostante comunque le persone fossero tante, gli spazi ampi, quindi molto probabilmente anche, ci sarò anche l'anno prossimo, anzi, spero di andarci come speaker, voglio, ho qualche idea per delle cose che voglio, dei talk, che voglio proporre. Per cui va bene, questo è stato il mio sproloquio sul Code Motion, fammi sapere cosa ne pensi e se ci sei stato, magari vi raccorda meno me i commenti. Ciao! Ciao!